Ora, tre interventi dei nostri rappresentanti del CGE, Arcobelli che frena da tempo, poi cominciamo, Arcobelli comincia per A, allora in ordine alfabetico, poi cioffi e poi fai, tocca a te. Vincenzo Arcobelli che è un'unione del CGE, negli Stati Uniti, in tutta la Nord America sta svolgendo un lavoro veramente incognabile. Ti ringrazio segretario, buonasera a tutti i partecipanti, per me è un privilegio essere qui oggi per parlare di una persona che mi manca, per parlare di un uomo che mi manca, ci manca e manca soprattutto agli italiani nel mondo e a questa nostra patria. Io ho avuto l'onore e il privilegio di seguire Mirko soprattutto nel periodo forse più difficile della sua vita, quando ha avuto purtroppo questa malattia che poi l'ha portata a lasciarci definitivamente. Risale a 27 dicembre di quel 2011, l'ultima telefonata, tre giorni prima che poi prendeva la sua strada per la casa del padre. Quella telefonata mi disse, caro comandante, devi fare qualcosa per il comune tricolore, promettimi di fare possibile. Io dissi semplicemente con una frase che ormai non si usa più, fosse una frase antica, obbedisco e un grande abbraccio e finire l'ultima mia conversazione. Quindi una promessa nei confronti di un uomo che ha dedicato tutta la sua vita, non solo come come rappresentante parlamentare in Italia ma anche per gli italiani nel mondo. Io dicevo no, per me è un privilegio, ma voglio andare oltre il voto degli italiani all'estero. Si è parlato fino adesso della via di Tremaglia fino al voto, però qui dobbiamo parlare oltre il voto. Cosa ci ha lasciato Tremaglia? Ha lasciato un patrimonio certamente di ideali, di valori che a prescindere dal colore politico, come diceva giustamente il senatore Micheloni che apprezzo il suo intervento, quello di ieri e quello di oggi, perché Tremaglia come tutti ben zanno era contro la partitocrazia, che ho detto oggi al CGE. Questa maledetta partitocrazia sta rovinando quella che è la politica, che la politica è servire e la comunità dovrebbe essere un privilegio, servire le comunità, servire le persone che hanno di bisogno per portare e fare un percorso assieme nel progresso e nella civiltà. e allora io devo ringraziare i collaboratori di Mirko, perché dietro, con un grande personaggio, un grande uomo, ci sono sempre le persone che lavorano, lavorano dietro le quinte e sono oggi presenti qui, mi riferisco a Carlo Ciofi, mi riferisco a Giuliana, alla Veronica e altri che magari non vorrei qualche gaff, ma dico tutti i collaboratori. E quando Mirko Tremaglia era ministro di Tene del Mondo, si organizzò quella bellissima manifestazione e cerimone che era all'altare della patria, dove si premiavano gli italiani nel mondo, quelli che erano, avevano fatto grande, quelli che avevano dato un grande contributo e quindi i missionari, vero sì, suora Miriam, i missionari che sono venuti qui, quanti? di religioni diverse, gli imprenditori, contribuì a costituire la confederazione degli imprenditori italiani nel mondo e così via come i ristoratori e poi l'industriano, gli imprenditori, gli scienziati. Allora ho preso questi ideali, questi progetti e ho cercato nel mio piccolo tutti questi anni di portarli all'estero perché vivo io negli Stati Uniti, vivo in Texas, dove veramente i giornali, non è che arrivavano lunedì come diceva Caruso quando si poteva venerdì, lì addirittura non arrivavano quasi mai. E allora abbiamo incominciato con i ricercatori perché il Texas offre naturalmente un grande trampolino di lancio per quanto riguarda perché ci sono gli ospedali, i centri medici più grandi del mondo, ci sta la NASA e la capitale dell'energia, petrolio, gas, eccetera, eccetera, eccetera. Per poi proseguire, e siamo arrivati all'undicesima edizione, grazie anche alla collaborazione con i Comites che ho avuto l'onore di presiedere appunto per 11 anni, per poi proseguire con tante altre cose che servivano a che cosa? A promuovere il sistema paese, il sistema Italia. E allora cosa avevamo in comune con il Cotermano? Avevamo tre cose principali, tre cose basilari. Uno era la passione per la storia e per l'aviazione. Io sono un aviatore, come molti conoscono, come professione, e naturalmente ero e sono appassionato degli aviatori della storia, dove gli aviatori, una volta italiani, l'aviazione italiana è stata, diciamola, più forte tra il primo conflitto mondiale e il secondo. E ricordiamo la trasvolata oceanica di Italo Balbo, dove Tremaglia si commuoveva quando io parlavo con lui di Italo Balbo, perché era lui appassionato di queste cose. Perché dico questo? Per dare un segnale, Italo Balbo, che adesso vorrebbero togliere la via a Chicago e sto affrontando delle battaglie, che Roberto Meni, il nostro segretario, sa perché mi appoggia sempre, mi sostiene, quando io faccio questi tipi di iniziative con i nostri collaboratori del comitato tricolore. Quando Italo Balbo arrivò a Chicago, prima a New York, con 24 idrovolanti, 48 motori, fu la missione più grande a livello mondiale di qualsiasi altro paese. l'aviazione italiana era arrivata al top. Venne accolto a New York da un milione di connazionali con le bandiere italiane. Lo accolse il generale Asinauolo, che poi divenne il presidente degli Stati Uniti d'America, dopo alcuni anni. Arrivato a Chicago, una grandissima accoglienza. E allora ci fu poi, per ringraziare in senso di insegno di gratitudine, da allora Benito Mussolini prese una colonna da Ostia, una colonna romana, e la regalò alla città di Chicago, come simbolo di amicizia tra gli Stati Uniti e l'Italia. Questa colonna adesso sta di fronte al lago. Ho portato l'estate scorsa, durante la festa della Repubblica, venne a trovarmi l'onorevole Menia e lo portai lì perché sto cercando, assieme a tanti amici, di conservare questo monumento, che secondo me è il monumento più antico che c'è negli Stati Uniti. È una colonna storica romana, quindi ai tempi dei romani stiamo parlando, Lula Presa, Limpapelè, e stiamo cercando di proteggerla perché la radical chic americana per qualche motivo dice no. Allora io sto cercando in qualche modo di trasmettere, anche a livello culturale, qui non c'è un discorso di destra, conservativi, repubblicani, non esiste. Stiamo cercando di portare un messaggio che gli italiani hanno contribuito per quanto riguarda la storia dell'aviazione nel mondo. Noi in Italia, nel mondo, Ferrari, De Pinedo, tutti i record, il record mondiale che ci sono stati fino agli anni 30, 20, 40, eccetera, eccetera. E quindi stiamo cercando di educare, in qualche modo se posso utilizzare questa frase, educare proprio, il popolo americano e di conservare un certo tipo di cultura e di storia. Per 65 anni, purtroppo, misera a tacere, o non si conosce un'altra storia, era l'8 agosto del 2009, Mirko Tremaglia andava a Marsinelli e Mania mi veniva a trovare a Airford. Ora voi dite, ma dove sta Airford? In Amarillo, vicino a Amarillo. Ebbene sì, in Texas passarono più di 50.000 italiani, prigionieri di guerra del secondo conflitto mondiale. E gli italiani che vivevano in questo campo di prigionia costruirono una cappella votiva, perché purtroppo lì ci furono degli incidenti e poi qualcuno morì. Allora, come dedica, si costruì questa cappella. ci sono stati dei vandali che l'hanno proprio quasi distrutta e quindi gli americani, i texani, chiamano me. Dice, qui dobbiamo ricostruire questa cappella. Dice, ma di cosa si tratta? Io non ero, veramente non era a conoscenza di questa cappella. Stiamo parlando che è in mezzo alle praterie texane. Ma c'era un sentimento di amicizia da parte di questi texani che è stato straordinario. Ma per 65 anni la diplomazia, che pur sapendo di alcune situazioni, perché si erano state fatte le richieste, il governo italiano la mise a tacere. Dopo 65 anni ho deciso con una strategia di mettere non il governo italiano, bensì il governo americano e dire noi dobbiamo organizzare questo evento. Abbiamo contribuito a restaurare questa cappella votiva, a dare il giusto merito, la giusta dignità e il giusto rispetto. Il solito menio parte dall'Italia, all'epoca lui rappresentava, era il sottosegretario di Stato e li venne a trovare. Voi vi immaginate cosa significa? Michelonido se lo ricorda alla buonanima di Enzo Cendofanti, consiglio del CG. Cendofanti fu prigioniero di guerra in Africa. E allora? fece mettere picchietto d'onore e con grande rispetto ci furono gli spari che si danno soltanto agli eroi, a quelli che vengono dalle guerre e che purtroppo ci lasciano. Perché? Ma è possibile? C'erano i nostri militari, fece venire una delegazione dell'Aeronautica Militaria italiana, i Marines e ci fu un senso di rispetto, un senso di rispetto. E' un ricordo straordinario per me, per noi, dove il Comediato Tricolore veramente ha messo un'altra, per quanto mi riguarda, una stella lì. Perché l'amicizia che c'è tra il popolo americano e il popolo italiano, facendo questo tipo di eventi, si rafforza l'amicizia. Adesso questi vengono qui in Italia, ci si ritrova assieme e si cresce assieme. Per ricevermi i complimenti devo dire che l'ambasciatore Terzi, all'epoca l'ambasciatore Terzi, che era ambasciatore a Washington, mi diede totale supporto. Ripeto, dopo 65 anni non è stato facile e siamo riusciti pure a fare questa iniziativa. Dopodiché c'era il discorso dei cimiteri dove Mirko Tremaglia era appassionato. Ricordiamo che il papà di Mirko Tremaglia morì in Africa e lui rimase e quando mi raccontava a me le sue storie familiari disse, sai io mi trovavo al cimitero, lì andavo a visitare e c'erano i fiori, tricolori e lui rimase colpito e da lì partì poi l'amore di Tremaglia verso l'altra Italia, verso gli italiani nel mondo, perché durante la sua visita a questi cimiteri lui capì, ma com'è possibile? In Italia non mi rispettano, ma invece in Africa o all'estero io trovo questo senso di rispetto e di amore verso i defunti, verso anche gli italiani. Comunque non è facile trovare gli italiani e i cimiteri, ma comunque io attraverso i nostri amici del Comune Tricolore una delle missioni che ci siamo date è proprio quella di salvaguardare, di dare più dignità a questi cimiteri dove ci sono i nostri connazionali. E da lì vi devo dire, mentre si parlava del discorso dell'8 agosto, che è un altro grandissimo contributo che Mirko ha dato, Marsinella è il simbolo, sì, e quindi la giornata del servizio lavoro italiano nel mondo. Ma non dimentichiamo che ci furono purtroppo altre tragedie, per esempio la Mononga in West Virginia, addirittura con un numero di molti più elevate, è Dawson, la città fantasma in New Messico, Dawson, è una città sconosciuta dove noi abbiamo cercato di dare importanza, come è stato scoperto che degli italiani, un professore, a me in questi cimiteri incominciano a vedere i cognomi italiani, cognomi italiani, ma qua guarda quanti italiani ci sono, circa 400, famiglie intere, perché lì lavoravano 13 anni, 14 anni, figli, nipoti, famiglie intere. E allora si scoprì che a Dawson e poi ci fu un'altra tragedia, perché lì c'era il discorso dell'oro, delle mine dell'oro, la conquista del West, e così via. E quindi ci siamo messi di buona volontà per cercare anche lì di capire cosa possiamo fare, e così via. E qui voglio andare oltre il volo di continuare, non è facile, i mezzi sono quelli che sono, ma per poter ricordare, non solo per ricordare, noi dobbiamo andare oltre, ecco lì, alla quinta evening, dove Tremaglia ci chiese, mi chiese all'epoca, nel 2000, quel viaggio mi sembrava che nel 2009, il Columbus Day del 2009, voleva assolutamente la Alfa Romeo rossa decapottabile. Quella lì, e ci sta lì la signora Ita che non vedete, la signora Ita sta in prima fila davanti, e lui stava di dietro, con l'impermeabile bianca famosa, e gli abbiamo dato questo onore, c'erano più di 100.000 spettatori, nella quinta evening, a New York, così con il grande rispetto che gli fu dato, con il picchietto d'onore a Vito, Veronica. Quella fu un'altra cosa. Allora ci dobbiamo fermare lì, la signora Sfunda diceva prima, ma chi è che può fare questa? Ragione, sono gli uomini che cambiano, le donne, non è un discorso di organizzazione, un'organizzazione è composta di uomini e donne, se si vuole, si possono cambiare tante e tante cose, ma ci vuole la testa, bisogna ragionare e bisogna avere molta buona volontà. Nessuno qui, c'era un supporto morale che mi veniva dato a miei esseri collaboratori, non è che ci hanno dato un aiuto, perché ci vuole anche lì l'aiuto economico, ma con il volontariato, se riuscite a portare tante iniziative, io spero che queste iniziative continueranno, ma questo dipende tutto da noi, non è facile, però quello che diceva Mirko, per concludere, diceva Mirko, ovunque ci sia un italiano, lì c'è il tricolore d'Italia, quindi quei 60 milioni che voi parlate, è vero ambasciatore, forse ci saranno più, ma i veri ambasciatori italiani sono gli italiani nel mondo, a prescindere che se delle professioni, i ristoratori, i pizzaioli, qualsiasi cosa che viene rappresentato con il marchio Made in Italy di italiano, che è molto attraente, perché lì c'è un discorso non soltanto culturale, ma anche economica e commerciale, è importante perché lì c'è un pezzo d'Italia, e cosa devo dire di più di questo? Devo dire che dobbiamo essere forti, caro segretario, caro amici e amiche, di continuare su quella strada, non fermarci, uno smetteva mai di sognare, ci dava la forza, la carica, quella telefonata settimanale mi diceva vai, 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 a volte eravamo pure in disaccordo, gridavamo, lui gridava a me, io gridavo pure io, però alla fine ci dava la forza e la carica di continuare, e dobbiamo continuare per quella strada, caro amici, perché altrimenti c'è il rischio, visto che c'è una mancanza di sensibilità assoluta, tranne qualche esempio, verso il nostro popolo italiano all'estero, che è un popolo, credetemi, che crede nei valori della patria e nei valori fondamentali che ci sono, dobbiamo dire veramente un grazie particolare agli italiani che risiedono all'estero. Grazie per questa grandissima opportunità, per me è stato un grande privilegio stare qui con voi stasera, grazie di tutto, io sono a disposizione nello stato della Stella Solitaria, che è quella texana, dove voglio ricordare a tutti che il 2 giugno del 2010 all'umanità passava un atto legislativo che rendeva orgoglioso la nostra nazione, dove il governo texano, lo stato texano, riconosceva l'Italia National Day, ovvero sia la giornata del patrimonio italiano nello stato del Texas. Queste sono una grandissima soddisfazione personale del Comunità Tricolore e dell'istituzione dei Comites. Quello è stato un grandissimo successo dove all'unanimità il Congresso e il Senato riconosceva gli italiani d'America e del Texas questa giornata straordinaria di italianità, la festa della Repubblica. E così via continueremo per concludere con il Columbus Day, dove vorrebbero cancellare la festa del Columbus Day, che è la festa degli italiani americani, la più grande che c'è, perché si sono messi in testa per un discorso religioso, perché con il Colombo, Cristoforo Colombo, ma hanno capito che stanno facendo un discorso contro gli italiani. Faremo il possibile per cercare di salvaguardare anche questo evento del Columbus Day che onora tutti gli italiani d'America, gli italiani americani. Grazie ancora e grazie Mirko, che comunque se parliamo stasera di Mirko significa che sta con noi e dobbiamo continuare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti